Mi trovo alla Gamescom dove ho appena visitato lo stand di Nvidia che ha presentato diverse tecnologie interessanti In realtà l'annuncio è stato già fatto qualche giorno fa però ho avuto modo di vederle proprio in prima persona provarle con mano e vi assicuro che c'è una differenza veramente importante per quanto riguarda proprio la percezione generale e ho anche una piccola chicca che invece non era stata aggiunta nella prima presentazione Adesso vi dico tutto La prima tecnologia che hanno annunciato è un potenziamento generale di GeForce Now un pacchetto già molto completo che conoscete, avete conosciuto comunque negli anni perché dal 2018 probabilmente che ne parlo e le migliorie consistono in principalmente un generale potenziamento dei server specialmente in Europa dove sappiamo che insomma le condizioni non sono stratasferiche come quelle americane o comunque con la diffusione e densità delle loro ma soprattutto ci sono stati degli annunci interessanti per quanto riguarda i giochi in sé perché sapete che il pacchetto principale di GeForce Now dispone di un gran numero di titoli, circa 600 e continua a farne arrivare però il problema in generale è che mancavano i AAA al Day One mentre adesso stanno cercando di risolvere questo problema alla radice e per esempio il più recente Black Myth Wukong è appunto uscito al Day One già pronto e disponibile su GeForce Now ovviamente possedendo il gioco sulla piattaforma di riferimento appunto come Steam hanno migliorato la questione dei login con anche il login istantaneo per quanto riguarda Xbox quindi di per sé interessante oltretutto siamo proprio di fianco allo stand Xbox mentre lo dico e oltre a questo vabbè in generale comunque stiamo parlando di un servizio che magari può costare però effettivamente permette alle persone di poter approcciare il PC gaming in maniera interessante e senza spendere quanto spenderebbero per un PC completo o magari per poter rimandere ancora un pochettino l'upgrade su appunto giochi molto complicati e molto pesanti come Black Myth Wukong quindi figo altra tecnologia già disponibile che invece è stata potenziata è quella del G-Sync infatti Nvidia ha stretto una partner con Mediatek per realizzare dei sampler che permettano l'abilitazione della tecnologia nella sua maniera definitiva quindi non compatible ma proprio G-Sync vero e proprio direttamente all'interno del sampler in questo caso appunto prodotto e fornito da Mediatek per quanto riguarda la disponibilità nei monitor dovrebbe arrivare su Acer, Asus e AOC mi hanno segnalato questi tre in particolare e per il resto stiamo parlando di una tecnologia che permette l'implementazione di G-Sync Pulsar che magari a occhio vi può sembrare semplicemente un normale aggiornamento del G-Sync ma in realtà introduce secondo me delle novità molto interessanti perché permette effettivamente di vedere molto meglio piccoli dettagli secondo me per chi fa gaming competitivo di altissimo livello e vi parlo anche soltanto di un Counter-Strike 2 la definizione e la visibilità dei dettagli che garantisce G-Sync Pulsar sarà molto molto più interessante di quanto abbiamo visto fino ad adesso con G-Sync Ultimate dal vivo ci hanno fatto vedere che effettivamente c'era la possibilità di leggere un testo veramente piccolo in movimento solo sul monitor G-Sync Pulsar il che è veramente molto interessante vi assicuro che è impressionante riuscire a leggere e vedere dettagli del genere in maniera così veloce oltretutto questa nuova partnership con Mediatek permetterà di evitare di avere i moduli di G-Sync direttamente insalati sui monitor e ridurrà i prezzi cosa che ovviamente è molto interessante per il grande pubblico i monitor con tecnologia sempre più buona ma saranno sempre più economici, diciamo grazie sul lato delle tecnologie di Nvidia invece per quanto riguarda Ray Tracing DLSS, Ray Reconstruction e tutto quanto il pacchetto che viene implementato sui giochi la promessa da mantenere in questo caso è quella di avere giochi al day one che abbiano sempre di più queste tecnologie implementate in maniera che non si debba aspettare per esempio come è successo su Starfield e successivamente anche l'altro punto è che stanno migliorando tantissimo ho visto una demo che purtroppo vi posso far vedere di Star Wars Outlaw e ragazzi era meglio col DLSS Ray Reconstruction che senza ma proprio meglio, nettamente meglio anche il Ray Tracing ne beneficiava in positivo io non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioco per vedere questi dettagli perché vi vorrei condividere del materiale ma occhio è wow il tutto facendo ovviamente più FPS infine ragazzi ovviamente una delle tecnologie che stiamo aspettando un pochettino tutti è Nvidia Ace con tutto quanto il pacchetto di tecnologie dell'intelligenza artificiale che si sviluppa intorno cosa vuol dire? semplicemente Nvidia Ace è uno di quei pacchetti che permette effettivamente di implementare l'intelligenza artificiale nei giochi e beneficiarne come utenti finali in diversi modi non solo ci saranno finalmente delle modifiche che permetteranno di avere per esempio un lip sync perfetto anche al cambio della lingua o la formulazione di nuove frasi non contemplate all'inizio dei personaggi cosa veramente fantastica per la massima immersività ma al tempo stesso ovviamente anche la possibilità di interagire direttamente con i personaggi nei giochi abbiamo avuto la possibilità di vedere due demo una di un gioco cinese che più che altro è uno showcase delle tecnologie nel senso che ancora non si sa se questo gioco uscirà ufficialmente ma stiamo parlando proprio di una situazione in cui il presentatore di Nvidia ci faceva vedere come lei potesse interagire vocalmente con questo personaggio nel gioco ma non solo col microfono infatti si aggiungeva anche la componente visiva attraverso la webcam il gioco era in grado di decodificare e capire gli oggetti che venivano messi di fronte dal conduttore di Nvidia per poter appunto chiedere cose come va bene questa spada per affrontare il mio prossimo nemico? è ovviamente una demo teorica nel senso non è una cosa che di per sé trova effettivo spazio non è che usare il fiore piuttosto che la spada selezionata nel mondo reale avesse un'influenza sul gioco finale però di per sé pensate alle possibilità in un futuro magari di, non lo so, giochi horror sempre più interattivi sotto questo punto di vista mentre parlando effettivamente di una tecnologia che garantisce un'interazione in gioco reale e concreta per i giocatori che secondo me troverete molto interessante vi parlo di Mechabreck è un gioco in prossima uscita dovrebbe arrivare più o meno nel 2025 ancora non è definito ma il concetto generale è che il titolo è in grado di interagire con l'utente mediante l'utilizzo di un microfono per impartire comandi o chiedere informazioni al personaggio in gioco per esempio durante la demo ci hanno dimostrato come si potesse chiedere per esempio quale sia il bot più adeguato per affrontare la prossima missione fare delle modifiche estetiche semplicemente cambiando il colore del nostro Mecha o cose del genere che effettivamente semplificano un processo ho fatto delle domande al team di Nvidia come per esempio queste tecnologie sono esclusive e mi hanno detto che effettivamente no finché una scheda video è in grado di far girare effettivamente questo tipo di calcoli su se stessa sarà abilitata a utilizzare appunto queste tecnologie nei giochi quindi di per sé che sia Nvidia e Media Intel finché avete la potenza di calcolo potete usarli effettivamente la tecnologia su Nvidia sarà maggiormente ottimizzata quindi di per sé i calcoli dovrebbero essere più semplici e veloci su Nvidia stessa ma questo almeno ci garantisce che non ci sarà esclusività per esempio verso delle RTX 50 in futuro ma la cosa sarà aperta oltre a questo ragazzi l'altra grande differenza è che la tecnologia di intelligenza artificiale viene accelerata direttamente in locale quindi di per sé non c'è l'inserimento dell'inferenza da parte da un server come invece per la demo del gioco cinese di cui vi ho parlato in precedenza questo velocizza il tempo di risposta del personaggio in gioco anche grazie agli small dataset perché effettivamente non si fa più utilizzo degli LLM ma degli small language model cosa che permette di avere quindi una minore porzione di testo da calcolare avere delle cose un po' più settoriali che aiutino effettivamente a ridurre l'impatto anche prestazionale a proposito di questo mi hanno detto che di per sé la tecnologia non dovrebbe avere un impatto prestazionale generale in quanto verrà accelerata su una unità di calcolo che non dovrebbe interferire in alcun modo sugli fps finali potrebbe esserci qualche leggerissimo calo ma vedremo con i test ufficiali quando usciranno effettivamente questo tipo di tecnologie infine ultima tecnologia molto interessante che hanno presentato è finalmente una versione finale di Half-Life 2 RTX realizzato con la tecnologia RTX Remix ragazzi se vi dico che la differenza è abissale è dir poco cioè lo hanno preso un gioco di vent'anni fa esatto e l'hanno reso un titolo moderno ora è giocabilissimo ed è una cosa fantastica perché sono anni che dico che ci sono tanti vecchi giochi che hanno delle dinamiche di narrazione, delle dinamiche di gioco, cose così molto interessanti e che magari la nuova generazione o comunque anch'io stesso magari se sono un po' più vecchi non giochiamo perché? Perché sono vecchi oggettivamente magari la grafica non ci sconfinfero o cose del genere e questo è un peccato con tecnologie del genere non solo gli sviluppatori ma anche i modder saranno in grado di avere un pacchetto di strumenti che li aiuti effettivamente a trovare la possibilità di creare dei giochi che l'utenza poi appunto voglia poter sperimentare anche con una differenza magari di fascia d'età molto notevoli il sistema di luce che hanno integrato in Half-Life RTX ragazzi è senza senso cioè riescono a mettere tutte le tecnologie di Nvidia come il Ray Tracing, il DLSS o eventualmente poi in futuro penso anche alla Ray Reconstruction e semplicemente farle funzionare ed è una cosa assurda perché oggettivamente parlando stia parlando di titoli che non dovrebbero avere questo tipo di tecnologie ovviamente tutto quanto gira intorno all'intelligenza artificiale almeno per adesso queste sono le parole chiave però chiaramente dovremo vedere in futuro se questa cosa rimane veritiera ad ogni modo queste erano le novità per quanto riguarda Nvidia spero appunto vi risultino molto interessanti perché per me lo sono state e penso che questo sia anche l'ultimo contenuto qua dalla Gamescom quindi fatemi sapere se vi è piaciuta questa mini copertura non è che ci fosse molto ad ogni modo noi ci vediamo al prossimo video voi state su Modern Tech, like, commento, iscrizione sono sempre molto graditi grazie!